La nostra città si candida a diventare anche la città dei bambini, abbiamo ripristinato i due parchi giochi che erano un po' abbandonati e degradati e abbiamo cominciato a realizzare questo magnifico parco gioco che consentirà non solo ai bambini di divertirsi ma anche ai genitori, ai nonni, perché no di passare qualche oretta in modo lieto in un posto incantevole, basta guardare il paesaggio per capire dove ci troviamo. Non abbiamo messo soltanto dei giochi, abbiamo risanato un'intera aria, qui era degradata, precipitava la costa, abbiamo fatto una grande opera di consolidamento che affiancando l'opera per la eliminazione degli scarichi fognari partecipa il tutto alla realizzazione della spiaggia in città. Questa è la prima parte del parco gioco, adesso monteranno dei gazebo per assicurare soprattutto ai nonni un po' d'ombra e anche un luogo dove poter passare qualche ora e dopodiché realizzeremo la villa in quella parte che ancora non è oggetto di intervento e metteremo anche degli animali ecologici, cioè degli animali in resina a misura reale che consentiranno ai bambini anche di vivere un momento particolare perché avvicina tutto questo anche verso l'amore nei confronti degli animali.